Perché c'è stata una legge di bilancio che abbiamo fatto lo scorso anno e doveva servire a qualcosa, cioè affronteggiare le emergenze dei cittadini che non ce la facevano. I risultati sono questi che voi vedete. Adesso abbiamo il dovere noi di continuare a mettere a posto i conti dello Stato e avviare quella famosa fase di rilancio dell'economia che è la cosa che tutti gli italiani si aspettano. Vi ringrazio tanto.